Il lupo perde il pelo ma non il vizio, dice un vecchio adagio e così è stato anche per un marocchino 45enne pregiudicato, sorpreso dai carabinieri di Tiene a spacciare per l'ennesima volta banconote false. Quando due carabinieri fuori servizio l'hanno notato al bar Le Barric di Galleria Garibaldi, l'hanno subito riconosciuto proprio perché in passato era finito nei guai per la stessa ragione. L'uomo Abdelah El-Ilali ha pagato un caffè con 50 euro e tanto è bastato a insospettire gli uomini dell'arma che hanno deciso di attendere che il 45enne uscisse dal locale per controllare la banconota, risultata come previsto falsa. Vistosi scoperto, l'uomo ha tentato la fuga ma è stato bloccato e arrestato. Lungo la strada i carabinieri hanno rinvenuto anche altre banconote irregolari dello stesso taglio di cui il progiudicato aveva tentato di sbarazzarsi. Arrestato, il marocchino ha patteggiato 10 mesi e 200 euro di multa con sospensione condizionale della pena. Grazie.